eeeh ciao a tutti ragazzi io sono battuti e benvenuti in questo nuovo video speciale dei 40 iscritti anche se sono 41 oggi vabbè che cosa c'è? pronto ecco oggi vi farò vedere la mia impostazione 3 2 1 hoppa la buongiorno qua abbiamo la mia sede a gaming recuperata di recente ecco qua ora che mi sono seduta possiamo continuare computer portatile controller a fuoco pronto mette a fuoco grazie poi tastiera potete anche voi leggere la marca poi monitor qua vedete il nero ma dal nero compare una luce e dalla luce compare un pronto un computer ed ecco qua il mio computer aspetta non vi faccio vedere la marca perché mica sono scemo ok è passato si è passato ed ecco qua la luce vai via pronto ed ecco qua il mio computer no no mi faccio vedere la marca nemmeno per scherzo no no ok eeeh guarda e questo è il mio computer l'altro marito ancora si deve collegare ma vabbè domani ci sarà uno speciale secondo e poi ci sarà un altro speciale ancora forse anche sempre domani comunque qua abbiamo un microfono passato tantissimo ciò che avevo detto chiavetta usb utilizzata per la key box poi qua abbiamo lampada fatta in casa lettore cd perché nel mio portate non c'ho lettore cd eeeh che dato c'è in sto casino di fili e cavi e cavi e fili ah stampante cosa poi adagire il computer stampante il computer si sta spegni il monitor tenda e basta